seconda corsa al cirigliano di Aversa miglio per anziani di categoria F affidata ai gentlemen non corre ben un RLL sono in sei agli ordini dello starter cinque in prima fila ed uno in seconda dallo steccato Babilonia Zaccaric di Meletro Ananas Jet Vidal Tav e Smorge Bar seconda fila per Belmarino autostart prende velocità Vidal Tav attacca a fondo Ananas Jet gli mette la figura davanti e in bocco della prima piegata con Ananas che cerca di rientrare all'avversario lotta serrata tra i due Ananas assume l'iniziativa su Vidal Tav serra sotto Belmarino quattordici il lancio rimane scoperto Vidal Tav ha preso la partenza giusta Elena Villani con il suo Ananas ventinove secchi il quarto iniziale continua a ritmo sostenuto il leader Vidal Tav insiste a largo seppur arrivando solo all'altezza del salchi dell'avversario 43 e 7 i 600 Vidal Tav adesso cerca di serrare in seconda posizione sopra avanzando Belmarino la manovra riesce dopo circa 800 metri di gara passati in 58 e mezzo continua il match tra Ananas Jet e Vidal Tav ma l'allievo di Immobile ha speso molto fa selezione Ananas e completa il chilometro volante in uno 13 e 8 sulla retta di fronte Ananas ancora carico in mano ad Elena Villani su Vidal Tav mentre dalle retrovie cercano di farsi notare Arric di Meletro e Smorghebar ancora una frazione in 14 e 8 di fronte uno 28 e 8 i tre quarti di miglio Ananas adesso prende una una e mezza di vantaggio a Vidal Tav Ananas Jet cambia marcia e se ne va Ananas Jet doveva essere Ananas Jet è stato onore delle armi a Vidal Tav che corre alla grande e conquista la seconda moneta uno 59 e mezzo sul mio cronometro media che dovrebbe aggirarsi intorno all'uno 14 e 1 per Ananas Jet interpretato per la seconda volta in carriera da Elena Villani arriva il secondo successo il portacolori della scuderia oltre è allenato da Vincenzo Villani Grazie a tutti 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 Grazie a tutti